Sicuramente il regalo che faccio alla mia bambina, capisco molto bene la difficoltà nel mondo degli adulti quando gli strumenti mancano, sono molto orgogliosa di essere a Franco di Save the Children, hanno creato questi punti di luce da 10 anni che danno la possibilità a tutti i ragazzi delle periferie di avere un punto di riferimento dal punto di vista dell'istruzione agli strumenti per credere nei propri talenti. Quindi per me è fondamentale essere qui e spero di essere di sostegno sempre più negli anni. Grazie. 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 Grazie.